Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono qui per presentarvi un altro tweak di iOS 7 compatibile pienamente, si chiama Display Recorder. Questo tweak consiste nel registrare lo schermo del proprio dispositivo Apple già il breccato. Questo tweak è disponibile alla versione 1.3.9 nella ripo AQ iPhone. Se lo faccio vedere, come vedete, non vi preoccupate, qui vi dirà che forse non è disponibile per iOS 7, ma non vi preoccupate, è pienamente disponibile. Adesso lo faccio vedere come funziona. Andiamo sull'applicazione, clicchiamo questo tasto, registra, andiamo sulla home, e questo pallino ci indicherà che è appunto lo stato di strada. Adesso lo faccio vedere. Poi dopo, ferma la registrazione, ok, e lo aggiungerà. Qui si dice, esegue il video. Ottimo. E' come vedete, lo fa vedere. Questo qui è quello che abbiamo registrato con le patte. Poi, giustamente, possiamo anche mettere un rullino fotografico, facendo, aggiungere un rullino. Stavo ad aggiungere un rullino. Spendiamo le immagini. E come vediamo, il video è qui. Adesso lo farò vedere anche da qua. Spero di essere vi stata utile con questo video. Ci vediamo al prossimo Tweek. Ciao.